Ok, bisogna passare sulle rocce, saltare, land atterrare, passare, saltare e spaccare, perfetto! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video, oggi siamo su BMLG, facciamo la campagna Dextrusion, quindi sarà devastante la situazione, sono sempre con Joypad della PS3, ora vediamo cosa ci riserva questa modalità, eccoci qua! Destroy, ah bisogna distruggere la Jeep, più 300 punti, e buttarci di sotto, ok, good bet, no, mio Dio, jump off, arrivo in fondo, più 700 punti, ce la possiamo fare, tutto dritto e prenderà la rampa, ok, startiamo, via, ah qua c'è la Jeep, madonna le cunette, vai, 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 anche lo slow motion, aia, porca boia, eh mi sa che la Jeep non c'è più, sai che forse faccio the best, vai, 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 quanto ha fatto, quanto ha fatto, successo, 300 su 300, 600 con oro, eh, bellissimo, andiamo avanti, va, drag race, attenzione, qui mi conta molto, ok, abbiamo, tutto dritto, e vinci la gara, best time, più 1000 punti, ok, è, va, foco, 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 f non si può da fare, è successo un altro oro stava bellissimo il dragster che prendeva a fuoco è una partita che ha dato retto, impennando ponte, cosa ho visto all'inizio bisogna arrivare dall'altra parte ok good, better, best ah, perfetto mi sa che adotto la tattica gas in fondo fino alla fine vai, 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 vai vai, 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 no, no, no no, 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 stai su, stai su, dai questi solo motion sono, no, fighi di più mille su mille mille su mille, mamma mia, che pro tanto vedete, bellissimo questo caricamento a metà perché, siccome sto anche registrando quindi penso che la cp non ce la faccia caricare da sfondo gatto eccolo ha caricato tutto, ho visto ok, bisogna distruggere il pick up e più questo oh mio dio si, si ci penso io ma quanto fa questo furgoncino oddio porca boia ciao aia il furgo non è tanto distrutto la macchina rossa è andata praticamente oh è ancora un po' distrutto madonna de volo ti faceva male boia che spettacolo i ralletti sono stupendi finita e dondola successo ah, abbiamo fatto una bronzo eh, il furgo è visto non si è distrutto molto la macchina è volata giù come un sasso suspension ok, bisogna passare sulle rocce saltare land atterrare passare saltare e spaccare perfetto ok, stai center dove stai in mezzo no, cos'è questo visuale piano 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 oh, come balla salta vai vai a martello che spettacolo no, non ho rotti il muro oh, un muro boia il visuale era un po' difficile però era molto carino il cacchio avete visto le suspensioni nei slow motion come lavoravano scatto che il muro è dietro ciao 자